Good Shopping, il bello e buono della vita! Su goodshopping.tv puoi visionare e acquistare prodotti di alta qualità, dall'alimentare all'artigianato, dalle eccellenze non gastronomiche, al benessere, al piacere. Cibo, con il meglio dei prodotti alimentari e le tipicità delle regioni italiane, per farti ritrovare il gusto e i sapori di una volta. Benessere, prodotti per la salute e la cura del corpo, e non solo. Piacere, per essere stimolati con articoli unici e introvabili. Fai un saldo su goodshopping.tv, la più grande vetrina di aziende locali, con produzioni esclusive. Good Shopping, il bello e buono della vita! In un click!